Ok, l'unica cosa, parto con ciao a tutti, quindi non servo, dato che non mi presento. Le attività dei corsi aerobica e fitness del Scus Parma si affiancano alle proposte dei corsi di sezione del nostro ente, sicuramente più strutturate, ma sono un'area sicuramente importante del Scus Parma. Il palinsesto prevede oltre 20 corsi che spaziano da attività di puro movimento aerobica per passare poi a corsi legati a rinforzo muscolare e arrivare poi alle attività di posturale, che non adatte in tutta l'età. A tutte queste attività si aggiunge poi una nuovissima sala pesi di oltre 200 metri quadrati, a cui si affianca anche il primo piano, una sala cardio fitness. La proposta è rivolta a tutti. Il mondo dell'area fitness aerobica è sicuramente molto attrattiva per i giovani, soprattutto nel nostro mondo universitario degli studenti. Il Scus è una grande polisportiva e in quanto tale abbraccia lo sport in tutte le sue declinazioni. Vengono proposte diverse discipline del fitness, le quali mirano ad accogliere una grande clientela e soprattutto le attività proposte sono adatte a tutti i nostri clienti. Gli esercizi vengono organizzati in maniera tale da accogliere tutte le esigenze possibili. Tra le varie clientele sono accolte ben volentieri anche le mamme dei nostri piccoli atleti, e le quali potranno dilettarsi nelle varie discipline nei momenti in cui i loro figli staranno facendo la loro attività e quindi potranno tranquillamente anche loro dedicarsi un po' del loro tempo. Ci sono tantissimi corsi, tra questi alcuni di grande rilievo in questo momento sono il pilates e il posturale, considerando la vita frenetica che abbiamo noi tutti ultimamente direi che dedicarsi a questi e quindi al nostro benessere sicuramente ci sarà d'aiuto. Allora, intanto sono un istruttore di questa magnifica sala pesi che è completamente nuova, quindi ha un look nuovo, collaboro da anni con il Cusparma e il Cusparma assieme ai miei collaboratori e ai miei compagni di avventura in palestra dà la possibilità a ogni utente di cercare il proprio obiettivo. Il proprio obiettivo che significa voglio fare qualcosa in palestra, dobbiamo raggiungerlo. Sala pesi che offre la possibilità di avere un istruttore sempre presente in sala che assieme all'utente deciderà quale sarà l'obiettivo da raggiungere e noi lo porteremo verso quell'obiettivo. Gli obiettivi possono essere svariati come dimagrimento, rinforzo muscolare, tutti i tipi di allenamento che si possono fare. È frequentata questa sala prevalentemente da studenti universitari, quindi è giovane, ricca di ragazzi giovani, ma è aperta a tutti. Noi offriamo il servizio istruttore sempre in sala, quindi è sempre coperta la sala dall'istruttore e siamo sempre a disposizione per tutte le tipologie di personalità. Quindi noi seguiamo la persona da A alla Z senza nessun servizio aggiuntivo. L'unica cosa che adesso vi dico è cercate voi il vostro obiettivo, venite a trovarci e noi saremo grati di aiutarvi a raggiungere quell'obiettivo. Noi offriamo! Grazie.